I consiglieri del centro-sinistra Braia, Cifarelli, Pittella, Polese e Trerotolo hanno tenuto una conferenza stampa sulle vicende legate alle estrazioni petrolifere, alla trattativa in merito alle concessioni basilicate e alle compensazioni ambientali. Una conferenza che è stata organizzata per fare chiarezza su una vicenda trattata dal governo regionale con segretezza, come ha affermato ai nostri microfoni il consigliere Cifarelli. Per fare chiarezza perché mi sembra che il centro-destra voglia intorbidire le acque, è proprio il caso di dirlo, su un tema così importante per i lucani provano a confondere le idee per nascondere le loro negligenze, la loro insufficienza, la loro incapacità e mi voglio esprimere in maniera positiva perché non voglio pensare a male, ci sarebbero tutti gli elementi per pensare a una strategia vera e propria che porta la Basilicata nelle mani delle compagnie petrolifere e allora con questa conferenza stampa vogliamo mettere un pochettino i paletti fissi, fermi, in modo tale che i lucani possano capire esattamente la situazione qual è. Il consigliere Polese ha lamentato il mancato coinvolgimento del Consiglio su un tema tanto importante quale è quello del petrolio. Sì c'è un tema, l'alea che ammanta tutta questa vicenda è quella della segretezza, che non è la nostra ma è la loro, stagliati le dichiarazioni, le richieste da tempo che noi abbiamo fatto al Presidente Bardi e alla sua aggiunta di metterci a corrente di che cosa sta accadendo sul petrolio. Non è stato fatto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, per la prima volta nella storia la Basilicata consentirà alle compagnie petrolifere di continuare a trivellare senza ricavare non un solo centesimo per i lucani. Nonostante il commissariamento di fatto che Bardi ha fatto nei confronti di Rosa io credo che sia inevitabile che l'assessore si dimetta quanto prima.